Dato che spesso molti di voi mi chiedono consigli in privato, beh, ecco, nel seguente modulo analizzeremo alcune alternative per chi per ragioni economiche e spaziali preferisca stare nei confini europei ed avere comunque un buon trattamento fiscale. Una delle opzioni sicuramente a voi più note è il Portogallo, con il suo status di residente non abituale, che al momento rappresenta la migliore meta per chi voglia mantenersi all'interno dei confini europei. Il Portogallo ha lanciato una completa defiscalizzazione sulla persona fisica per i redditi percepiti dall'estero. E guardate un po', la vostra società verrà considerata fuori dal territorio portoghese e quindi il vostro dividendo non verrà tassato. Chiaramente non parliamo di uno status come quello descritto in precedenza. Dovremo comunque, a fine anno, fare una dichiarazione dei redditi dove comunicheremo i redditi percepiti dall'estero e chiederemo la conseguente detassazione. Tale status è valido per 10 anni, ma presuppongo che tra 10 anni sarete abbastanza ricchi da potervi permettere qualsiasi altra opzione. Sempre in Portogallo è possibile chiedere la defiscalizzazione completa per i redditi percepiti dall'estero, laddove sia riconosciuto un elevato valore aggiunto alla vostra attività. Quest'ultima opzione è più complessa, in quanto bisogna rientrare in alcune casistiche specifiche e l'approvazione richiede molto tempo, dovreste dunque muovervi svariati mesi prima. Non è tutto rose e fiori, purtroppo. Ecco un paio di cose che avete adesso la fortuna di sapere prima di sbatterci la testa. Dal recente settembre 2019 alcune dichiarazioni dei redditi sono state mandate indietro, in quanto la giurisprudenza, che notoriamente è una fonte del diritto, ha stabilito che la defiscalizzazione completa sia a patto che si sia pagato un minimo di tasse nel Paese dove l'azienda è residente. Non potendo fare uno 0 più 0 assoluto, dunque, è richiesto anche solo un euro di carta da bollo pagato da voi e non da terze parti all'altro Stato. Per quanto ve ne possa dire chi cerca di vendervi tutto come oro colato, state attenti ed affidatevi a un ottimo pianificatore fiscale, o potreste trovarvi la pratica tornare indietro. Il sistema portoghese, come quello italiano, si basa molto sull'interpretazione giurisprudenziale, quindi parliamo chiaramente di norme. Quindi vi invito ad aggiornarvi al riguardo o chiedere una nostra consulenza privata per approfondire le varie questioni nel dettaglio. L'esempio fatto per il Portogallo è chiaramente traslabile a diversi Stati europei che non tassino i dividendi esteri o che abbiano una tassazione molto bassa e, cosa più importante, non presentino esterovestizioni sulle società estere. Più avanti forniremo altri interessanti esempi di pianificazione strategica per ottimizzazione del carico fiscale, anche se in linea di massima diciamo che il vecchio continente ci chiederà sempre un minimo compromesso.